Ciao ragazzi, io sono Falco Nero e oggi sono qua con la nuova raccolta con cui chiudiamo un po' il pacchetto Abbiamo trattato i migliori giochi da giocare su PS5, i migliori giochi da giocare su Nintendo Switch Adesso i migliori giochi da giocare su Xbox Serie X ed S Due console che così come PS5 condividono un po' il medesimo destino Ovvero quello di poter essere utilizzate oggi, nella maggior parte dei casi, con prodotti di vecchia generazione Che però girano meglio su appunto queste nuove console Quindi non aspettatevi una raccolta di prodotti nuovi perché non ce ne sono effettivamente solo di nuovi Quindi partirei subito con quello che effettivamente nuovo è Ovvero The Medium È un titolo, non è un capolavoro intendiamoci Però come ampiamente dimostrato è un È un'avventura grafica di stampo horror capace di offrire diversi spunti interessanti Su Xbox Serie X mi ha divertito, mi ha appassionato Ha avuto i suoi limiti ma comunque è un prodotto che merita Attenzione perché rappresenta la maturazione di un team, Bloober Team Che con The Medium ha provato una strada nuova rispetto a quello che aveva fatto in passato Un titolo che merita assolutamente attenzione e che potrebbe avvicinare a un genere non più popolarissimo Tanti giocatori che magari hanno scoperto il gaming da poco Che non ci si sono mai avvicinati a questo tipo di produzioni Per cui è una bella storia raccontata bene Grande impatto visivo, enigmi intriganti, una progressione insomma non banale Titolo consigliato per quanto non sia perfetto come poi abbiamo anche detto all'epoca Poi passiamo un po' a Ori and the Will of the Wisps Titolo per Xbox One riproposto su Serie X con un'ottimizzazione straordinaria Che lo porta non solo a 4k ma a 120 fps Quindi una fluidità incredibile, il gioco forse più fluido del panorama attuale In termini di platforming Titolo evocativo a dir poco, colonna sonora da Oscar Impatto visivo meraviglioso Non fatevelo scappare, sarebbe un delitto Sebbene sia bello complicato per cui preparatevi Nonostante questa cosa tutta un po' puccettura, tutta carina A tirare qualche... ma insomma non è semplice per niente Poi State of Decay 2 Allora State of Decay nella sua forma originale Non è che fosse proprio il massimo del godimento Perché non era ottimizzato particolarmente bene Scatticchiava, caricamenti infiniti Su Serie X è un'altra roba È veramente un'altra cosa È un po' il corrispettivo Xbox di Days Gone Days Gone su PlayStation 4 era a tratti molto difficile da apprezzare Su PlayStation 5 è rinato Stessa cosa, State of Decay 2 Titolo che su Xbox Serie X ha caricamenti praticamente ridottissimi Una fluidità incredibile garantita dai 60 fps del 4k Insomma un gioco che merita di essere riapprezzato Su una nuova console della casa Poi, medesimo discorso, lo facciamo per Halo The Master Chief Collection Anche questo ottimizzato in tutti i suoi capitoli che lo compongono A 60 fps e 4k E insomma un'impostazione che riduce tantissimo i tempi di attesa Io ho riscoperto l'amore per Halo su Xbox Serie X Me li sto un po' rigiochicchiando a tempo perso Nei ritagli di tempo Ma è veramente il luogo in cui goderseli al meglio Perché su Serie X rinascono letteralmente rispetto alla versione originale per Xbox One Per cui dategli un'occhiata Se vi siete persi stasera ragazzi Magari siete tra quelli che da poco hanno abbandonato Sony o Nintendo per passare a Serie X Sappiate che con Halo The Master Chief Collection vi aspettano 150 ore facili del gioco Se non qualcosa in più Per cui assolutamente sarà consigliato Discorso similare per Gears 5 Che forse è uno di quelli che rappresenta al meglio le potenzialità di Serie X Sull'ottimizzazione dei vecchi prodotti Gears 5 su Serie X rinasce 60 frame Anche qui 4k, qui Cresium per passare rapidamente a un gioco in alto Caricamenti rapidissimi In generale un prodotto che riesce a esprimersi al meglio su Serie X E che considerando i numerosi aggiornamenti che riceve Hivebusters, di recente l'espansione che ha ricevuto Insomma tante cose che lo rendono un prodotto in continua evoluzione Che riescono a regalare veramente decine, decine e decine di ore di gioco Fatevi un favore, recuperatelo se non avete mai giocato a Gears Perché merita assolutamente Poi tra i titoli nuovi abbiamo Grounded Grounded è un survival di nuova generazione Che ancora è in Early Access per cui ha tanto ancora da raccontare e da dire di se stesso Ma lascia già intravedere un potenziale enorme Un gioco che potrebbe essere visto come una ridizione di Tesoro Mi si sono ristretti ragazzi, il famoso film In cui ci si trova a dover sopravvivere in un giardino Nel cortile di una casa all'americana In cui ci sono insetti e pericoli di ogni tipo Che ostacolano una progressione in cui dovrete costruire, raccogliere risorse E comunque cercare un modo per tornare alla normalità Gioco sorprendentemente interessante che Se dovesse raggiungere la piena maturazione in tempi brevi Potrebbe veramente imporsi come un piccolo grande capolavoro Disponibile nell'ecosistema Xbox Poi abbiamo Destiny Allora Destiny 2 su Xbox Series X Così come su PlayStation Lì non ho parlato perché ho preferito mettere altri giochi Ma è un po' lo stesso discorso Qui non abbiamo Borderlands oggi ma è come se lo avessi Ma Destiny 2 su Xbox Series X mi ha veramente impressionato Mi ha impressionato perché l'ottimizzazione a 60 frame e 4K Lo porta a un livello veramente superiore Lo rende imprescindibile per chiunque ami Gli spara tutto Ed è un titolo che riesce veramente a venire fuori molto bene Soprattutto per caricamenti ridotti Che è una cosa che io non sopportavo granché della versione originale E anche per la sua fluidità Destiny come tutti i prodotti Bungie è un titolo che si lascia giocare da solo Praticamente E saprà regalarvi veramente tanti momenti Sia in PvE sia nella campagna Sia in PvP È un gioco veramente che se affrontato con la giusta voglia Con la giusta dedizione Può veramente azzerarvi la vita sociale E ve lo dico al vostro rischio e pericolo Preparatevi Poi abbiamo gli ultimi tre Che poi c'è un però alla fine Forza Horizon 4 Vi piacciono le macchine? Forza Horizon 4 è il... Forza è il titolo migliore che possiate provare oggi In assoluto Indipendentemente dalla console su cui... O la piattaforma su cui state Perché Forza Horizon 4 è un titolo che riesce a raccontare il mondo dell'automobilismo In maniera fresca Originale Con tante sfumature diverse Variazioni climatiche O è un impatto visivo che sui serie X Attraverso l'aumento di framerate e il 4K Raggiunge una maturazione totale E di conseguenza non posso non consigliarvelo A mani bassissime Cioè... È un titolo talmente bello nel celebrare l'automobilismo Peraltro in un setting meraviglioso Con questa campagna che cambia continuamente Stagione Insomma Giocateci Mi saprete dire Ma ripeto È una di quelle cose che veramente ti lasciano un po' così E su serie X appunto raggiungi un livello Incredibilmente più appagante Penultimo titolo Yakuza Like a Dragon Allora Non avete mai giocato a Yakuza Volete iniziare Like a Dragon potrebbe essere un buon modo per farlo Su serie X peraltro È ottimizzato da paura Per cui ve lo godrete veramente al meglio E soprattutto vi permetterà di iniziare a conoscere una serie Che vantaggia altri 6 capitoli E uno spin off se non ricordo male Che è Judgment Ma con Like a Dragon potreste entrare in questo mondo Senza necessariamente dover recuperare prima tutti gli altri Perché non è direttamente legato a una storia sua Sì c'è qualche riferimento ma è la storia è la sua Quindi Dategli un occhio Io tanti ragazzi che mi seguono Nel corso degli anni Hanno seguito il consiglio di andare a recuperare Un qualche Yakuza E mi hanno sempre ringraziato Fate come loro Scoprirete un amore incredibile per una serie Che è spesso lasciata da parte Per ragioni che sfugono ai più Ma che merita il massimo rispetto E la massima attenzione E chiudiamo Con tre titoli Dici perché tre? Mo' ho capito Far Cry 4 Watch Dogs 2 Sniper Elite 4 Sono i tre titoli che meglio incarnano L'FPS boost Funzione che è stata introdotta con Gli ultimi aggiornamenti E che permette a alcune produzioni Di vecchia generazione Di essere automaticamente ottimizzate Dalla console Ottenendo un aumento di frame rate Che li rende letteralmente nuovi Io mi sto rigiocando Sniper Elite 4 Per farvi capire Proprio perché con i 60 frame È molto più gradevole Di quanto non fosse all'epoca E lo stesso vale per Far Cry 4 E per Watch Dogs 2 Che sembrano a metà Fra un gioco di vecchia generazione E uno di nuova Per cui veramente Potrebbe rappresentare Questo FPS boost Una scusa Per rigiocarsi O per giocarsi Per la prima volta Tanti prodotti Di vecchia generazione Che magari Uno ha lasciato un po' da parte Perché non era il momento giusto Poi si sa Ma noi videogiocatori Siamo strani Andiamo un po' per Per periodi Per umore Del momento Tante cose In un certo contesto Non è il momento giusto Poi magari Li recuperiamo anni dopo Con l'FPS boost Questa scusa Credo la avrete Per cui diciamo Che al decimo posto Più che un gioco C'è una funzione Che è appunto Questa che ottimizza I giochi di scorsa generazione E speriamo venga estesa A quante più produzioni possibili Perché io avrei una certa voglia Di rigiocarmi Dragon Age Con i 60 frame E adesso l'ho detto Bene Ragazzi Io a questo punto Direi che Che è tutto Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Quali sono i 10 giochi Che consigliereste voi A un ragazzo O una ragazza ovviamente Che oggi Dovesse comprarsi un Xbox E non Insomma Venisse da voi A dire Ma che c'è gioco Ecco Proponetegli sto video Magari Oltre a darvi Dei consigli vostri Per cui ragazzi Fatemi sapere E noi ci vediamo Alla prossima E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo